All'Università d'Annunzio Chieti-Pescara ospite straordinario Stefano Fresi, attore di cinema tv e teatro. Fresi è intervenuto in occasione dell'appuntamento intitolato L'Uomo allo specchio, satire e pittura di caratteri tra classico e contemporaneo. L'evento è stato organizzato nell'ambito della Kermess internazionale dedicata al celebre compositori abruzzese di colonne sonore Alessandro Cicognini. Una collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università d'Annunzio e il Festival internazionale Cicognini. L'evento è stato molto partecipato e ha visto alternarsi diversi relatori. A presentare l'appuntamento la giornalista Mila Cantagallo. Che cos'è per Stefano Fresi l'Uomo allo specchio? Molteplici significati. L'uomo allo specchio intanto è un atto di coraggio perché la capacità di guardarsi negli occhi, di riconoscersi, di sapersi accettare, rifiutare, criticare e analizzare. Non è sempre bello quello che lo specchio rimanda indietro, se però l'immagine è pulita e gradevole. Forse abbiamo fatto un buon lavoro durante la vita. Una lezione, chiamiamola così, o comunque delle performance in un ateneo con tanti studenti. Qual è il messaggio che un attore così eclettico vuole e può dare a questa platea? Io credo che al di là della mia professione di attore, proprio un uomo della mia generazione, di fronte ai ragazzi giovani in un ateneo, prima di tutto si deve un po' scusare del mondo che gli ha lasciato. Perché magari ha sbagliato i voti, ha sbagliato i comportamenti e loro si trovano a dover rimediare a degli errori che non hanno fatto. E dopo questo gli si dice diamoci una mano gli uni con gli altri. Professor Riborio Stupia, magnifico rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio, quanto è importante portare un personaggio del cinema e della televisione davanti agli studenti? È importantissimo perché noi riteniamo che i nostri studenti abbiano bisogno di testimonial che trasmettano loro l'importanza della cultura, ma anche il piacere della cultura, il divertimento della cultura. Noi abbiamo lanciato lo slogan come un'università che si può imparare divertendosi, del resto oggi l'attore Fresi ha parlato di cultura, ha trattato delle tematiche culturali, ma in un modo che può essere trasmesso direttamente ai nostri ragazzi. Davide Cavuti, direttore artistico di questo incontro, continua con successo la collaborazione tra l'Università D'Annunzio e il Centro Studi Alessandro Cicognini. Sì, è una collaborazione che ci onora perché così riusciamo a divulgare sempre di più il messaggio e le opere di Alessandro Cicognini. Oggi sarà una giornata particolare con l'attore Stefano Fresi e ringrazio il prorettore Vicario e il professor Carmine Catenacci per questa collaborazione che continua da anni. Due anni fa abbiamo ospitato Michele Placido, l'anno scorso Anna Foglietta e oggi Stefano Fresi. Sarà un momento proprio per far conoscere il lavoro di questo straordinario autore abruzzese che ancora oggi molti non conoscono. Professor Carmine Catenacci, prorettore Vicario dell'Università D'Annunzio, perché la scelta dell'attore Stefano Fresi per questo incontro con gli studenti? La nostra serata è stata una lezione spettacolo dedicata allo studio dei caratteri, all'escrizione dei caratteri della satira, satira non politica ma morale. La caratterizzazione e la rappresentazione di tutti quei personaggi che dell'antichità ad oggi fanno la storia del teatro e di altri generi della letteratura e dello spettacolo. Mi riferisco al Bellimbusto, allo Spilorcio, al Piacione, al Seccatore e sicuramente Stefano Fresi è uno degli attori più versatili che ha maggiori capacità di interpretazione di questi ruoli.